Buongiorno amici di Ciaucomo, eccoci in a diretta dalla chiesa parrocchiale di Prestino dei Santi Felice e Francesco. Vi trasmettiamo in a diretta la recita del Santo Rosario per la signora Marinella Beretta, la signora che purtroppo è deceduta più di due anni fa e oggi qui nella chiesa di Prestino c'è l'esepe, il funerale con la guida a questo Santo Rosario, il prevosto della parrocchia Don Marco Pessina. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. San Padre è il frutto del seno tuo, Gesù, Gesù. San Padre è il Nossa, Gesù è il frutto del seno tuo, Gesù, Gesù ilachen. Tesù è il frutto del naturale e il bombers e il frutto del seno tuo, Gesù. E' vero, Gesù. E' vero, Gesù. Gesù, Gesù. Gesù è il frutto del conforto, dimostrare un frutto del suo frutto e di grazia, il chiudabile è il nostro Presidente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.